E si va presto! A volerci in un modo o in un altro, sì, tutto sta poi, se possiamo essere quali ci vogliamo. Come va l'amore? Buongiorno. Altro che amore, in questo romeggio... L'amore sempre, ragazzi, l'amore sempre, l'amore sempre! E' un ricordo del tuo paese lontano. E ce ne costa l'acromo st'americà, a noi lavorerà. C'è gente che sta con due o tre alla vostra. Sì, ma è meno scandaloso di voi, credetelo. E se facessimo venire Melina? La sapevamo così buona. Modesta. Umile, anzi. E così dolce d'indole. Come del resto poi ci si è sempre dimostrato. Felice, felice ti dico che noi due, i quali voleva bene sopra tutti i clienti, l'avessimo ollevata da quella brutta vita e ci è venuta. Capisci? Con tutti i ricordi della nostra gioventù, con quello stesso sorriso di dolcenza beata. Per servirci, disse Melina. Già, figurati che sei voluta prendere cura di noi, dei nostri vestiti, della nostra biancheria. Beh, dite un po', è brutta. Anche se ciascuno si approfitta di incertezza per non farsene un rimosso, pensando che il figlio possa essere dell'altro, è anche di fronte a me, che non voglio per lui questa sorriso. Io non sono venuta perciò a dirvi che non voglio nulla, non mi chiedo nulla, io sarò qua con voi finché voi mi vorrete. Carlino, Carlino quanto pensi che possa durare ancora per voi questa vita? già da tempo mi ero resa quella che credevo essere la loro volontà. Ma no, sono loro, ora voglio assolutamente che io mi tenga il figlio. E' mai possibile il compatimento di certe sventure se non a patto che se ne rida? Annette! Mauro,